Sì mamma, sì sì, vieni a mangiare a casa, puoi venire. Sì sì, vieni a mangiare a domenica. Oh? Ma che stai? Aspetta, che buco? Deve venire mia mamma a mangiare, quindi non mette cosa in mezzo. Allora, vieni a mamma, vieni a mamma. Bello, io ci ho ordinato i capretti, vieni pure il fratello. Che fai? Vieni pure il mio fratello. Vieni tu mamma, il fratello di i capretti, vieni tutti e tre. Mamma, vieni, non ti preoccupare, se puoi portare qualcuno, ti puoi portare. Ciao, ciao, ti aspetta eh, ciao, ciao. Ma allora non rispetti contro me questo fatto che fai mia mamma. Ecco, mamma ti è andato a mangiare e mia mamma si è andata a casa. Sai che ti dico? Io esco e vado con il primo che incontro. Ma tu mi ruba da terra. Buonasera. Mamma mia. Perché non vuoi trovare l'occhiere? Bella, ma tu cerchi solo una continuazione. Prima di usare un'era così, poi vuoi trovare che? I soldi per vestire la comunione, i soldi per le scarpe che diventano al matrimonio. Bella, ma che ti sta a rubare? Io quando faccio il cerimone, ho già con il barico. Io voglio che la capa fatta, voglio che le scarpe buone e voglio che il vestito buone che accende, ma hai già fatto vita, capito? Non voglio fare vita, hai già fatto vita. Le arei soldi. Che si ribelle, niente. Non ti vogliono manchina lì. Oscar. Non ti vogliono manchina lì. Ah, a parte che tu mi hai dato lì, ma era l'euro. Eh, non ti vogliono lì e l'euro, niente. Oscar, tu hai mangiato oggi? Si. E ci vogliono i soldi per mangiare. Ah, ieri c'ho levo i soldi per fare spesso tutte le settimane. Oscar, ci vogliono i soldi per mangiare. Mi ha i soldi per mangiare, non mi vuole? Non ti vogliono manchina lì. Ah, non mi vuole? No. E allora sai che ti dico? Esco e vado con il primo che incontro, te! Buonasera. Buonasera. E' bello che fai un caffè. Ti stai tirami la camicia e non me l'hai voluto stirare. Ti stai preparando le mie scarpe. Non me l'hai voluto preparare. Ti stai preparando le mie scarpe. Ti stai pregando e bufando le pennelle arrabbiate. Non l'hai voluto fare. Eh beh, che bufai? Non sai che faccio? Esco e vado con la prima che incontro. Buonasera. Buonasera. Grazie.